Oh, no, di nuovo. Qualcuno ha preso il mio tè bianco preferito. Chi è stato? Questo vuol dire una sola cosa. Quei furbacchioni robot del caffè ci prendono in giro. Non preoccuparti, Wu. Ho un'idea. Secondo il sistema di sicurezza, qualcuno è entrato nel negozio ieri notte alle 2.30. Perciò, senza ulteriori indugi. Che monellacci. Adesso ci penso io. Evidentemente i robot hanno rubato il mio pigiama, il mio orsacchiotto preferito e hanno i miei stessi gusti in fatto di tè. Ok? Basta così. Tornate tutti al lavoro. Oh. No! No! Sì.